Quest'anno abbiamo suddiviso la stagione in come se fosse una grande opera nel corso dell'anno, quindi avremo un atto primo, che è quello che presentiamo oggi, un atto secondo che sarà il periodo estivo e l'atto terzo il periodo autunnale. In questo primo atto raccontiamo di quattro concerti. La cosa a cui tengo particolarmente è la presenza di due solisti strepitosi. Il primo è Francesco Dorazio, violino solista, che nel 2010 ha vinto il premio Abbiati come miglior solista dell'anno. Con lui eseguiremo un concerto interamente dedicato a Mozart, un concerto per violino e orchestra numero 3 e la sinfonia numero 14, anche per sottolineare il 250esimo anniversario del primo viaggio di Mozart in Italia, un primo viaggio che toccò anche la regione Marche. Il secondo appuntamento, quello del 26 febbraio, inserito nelle celebrazioni per il compleanno non-compleanno Rossini, vedrà invece l'altro grande solista, Giovanni Gnocchi. Giovanni Gnocchi insegna violoncello al Mozarteum di Salisburgo, quindi è uno dei posti più ambiti da tutti gli artisti. Dopo i concerti fatti al Teatro della Fortuna, quest'anno lo portiamo a Pesaro, sarà un concerto interamente dedicato a pagine per violoncello solista e orchestra e tra queste, sottolineo, in L'Arm, stupendo capolavoro di Rossini, proprio nella serata del 26 febbraio. Si passa poi al 10 marzo, concerto in cui faremo un omaggio al Giappone. Dieci anni fa, l'11 marzo, accadde una tragedia in Giappone, che era lo tsunami e terremoto. Da quella tragedia, qualche anno dopo, nacque una bella relazione tra noi, dell'orchestra Rossini, la città di Pesaro, città del Vaticano e appunto il Giappone. Tutto è confluito nel gemellaggio tra Pesaro e Kakegawa. Noi faremo un concerto il 10 e omaggeremo il Giappone. L'11 in Giappone ci sarà il nostro direttore artistico, Daniele Agiman, che dirigerà un'orchestra giapponese in un momento istituzionale molto importante. Questi quattro concerti si concludono con l'ultima collaborazione con Giovanni Gnocchi e sarà interamente dedicata a Haydn, che è il padre della sinfonia, in qualche modo il padre anche della nostra orchestra sinfonica, con l'esecuzione del concerto in do maggiore per violoncello e orchestra e la sinfonia Tempesta di Mare. La location è quella del Teatro Rossini per una manifestazione che però sarà digitale. Sì, il Teatro Rossini con la stupenda sistemazione del praticabile che peraltro ha dato una eccellente acustica. Sarà tutto in streaming, tutto gratuito, si potranno vedere i concerti nei social dell'orchestra, del comune. Un altro aspetto importante è che ogni concerto sarà anticipato da tracce di una rubrica di 15 minuti che anticiperà i contenuti, le curiosità ed è realizzata dal nostro segretario artistico Paolo Rosetti e dalla nostra referente musicologica Maria Chiara Mazzi.